Probabilmente è il batterista più sottovalutato che ci sia all'interno della musica rock. Sto parlando di John Desmore, il batterista dei Doors. Ma dal 67 fino al 71, naturalmente sto parlando di tutto il periodo dei Doors con Jim Morrison, ha tracciato un solco incredibile all'interno della musica rock mondiale. Quando nella tua band hai gente come Jim Morrison, Ray Manzarek, è difficile spiccare. John Desmore era un batterista sì virtuoso ma allo stesso tempo molto semplice che ha portato influenze molto particolari all'interno dei Doors. Sto parlando di influenze jazz, influenze blues, influenze bossa nova e anche influenze rock che hanno condito il suono dei Doors in un modo molto particolare e rimasto eterno. Qui sotto in descrizione ti lascio il link alla playlist Spotify dove potrai ascoltare tutte le canzoni che nomino in questo video più altre. Nel 1967 i Doors registrarono il loro primo disco dal suono molto particolare perché, penso lo sai benissimo, nel 67 con il disco Doors, i Doors registrarono senza un vero e proprio bassista. Questa fu una scelta molto oculata da parte di tutti i componenti dei Doors, principalmente perché non volevano mettere un'altra persona estranea, chiamiamola così, all'interno del gruppo. Erano quattro amici, quattro veri amici e a Jim Morrison non piaceva l'idea di mettere dentro persone che non conosceva. Ma allo stesso tempo anche perché a detta di Manzarek, ma anche a detta di Densburg, non volevano somigliare anche a gruppi che all'epoca già esistevano. Infatti Ray Manzarek diceva che se avessero aggiunto un bassista, il loro suono diventava molto simile al suono che avevano i Rolling Stones in quel periodo. Quindi per creare un suono molto particolare, decisero di dare, quindi di dettare il loro sound più sulle tastiere di Ray Manzarek, tenendo queste tastiere molto alte, molto acide, e anche alla batteria di John Desmond. Quindi dare quel suono e quel tocco molto jazz, ma allo stesso tempo blues rock. Non avere un bassista, quindi dava la possibilità a Desmond di divertirsi di più, quindi di essere la vera linea guida ritmica all'interno del gruppo. Seguendo anche la voce di Jim Morrison, seguendo le chitarre, seguendo le tastiere, non dando veri punti di riferimento, ma ci tengo a precisare che successivamente al primo disco dei Dors, i Dors decisero comunque di far registrare il basso a dei professionisti. Parliamo del suono di John Desmond alla batteria. Lui sì, aveva comunque uno stampo molto jazz, ma quello che ha dettato il vero suono e che l'ha reso immortale alla batteria, sono state le sue dinamiche. Ci si trovava ad ascoltare un pezzo che magari partiva con dinamiche leggere, fino ad arrivare a dinamiche che incalzavano sempre di più, mescolando anche stili diversi dal jazz al blues rock. Desmond da ragazzino aveva imparato a suonare strumenti a fiato, pianoforte, suonava anche in orchestre. Quindi sapeva benissimo che cosa volesse dire la dinamica, che cosa volesse dire suonare piano, pianissimo, forte, fortissimo, che è qualcosa che nella musica attuale si è perso drasticamente. Gruppi come Daya Streets, per dire, sapevano farlo benissimo. E la canzone che appunto voglio farti ascoltare è The End, dove possiamo sentire la mano leggera di John Desmond quando poi nel finale esplode praticamente. Era un batterista che quando suonava aveva già in mente quello che faceva. Ti faccio un esempio, Break on Thru. Break on Thru ha un intro molto particolare. Pensate che lui ha iniziato il primo disco dei Dorse, una cosa bellissima, iniziare il primo disco della storia, con questo ritmo bossa nova. È un ritmo già che ti fa muovere, un ritmo che ti fa saltare. Ma andiamo più avanti, per dire, all'interno di Soft Parade, dove c'è Shaman's Blues, vero e proprio stampo blues. Oppure se vogliamo andare più avanti, forse uno dei dischi più belli che i Dorse hanno fatto, o meglio, un disco che io amo tantissimo, ovvero Morrison Hotel, dove possiamo ascoltare Peace Frog, dove c'è quell'intro in ottave sul Charleston, che va quasi a ricordare l'hard rock dei Led Zeppelin in quel periodo. Lui passava anche da rullate improvvise, tipo marcia militare, scaricate sui tom, fino a che poi non andava col cross stick sul bordo del rullante. Utilizzava la batteria a 360 gradi. Iniziarono ad arrivare anche i vari bassisti che riempivano più il suono della band. Piano piano il sound dei Dorse diventava sempre più blueseggiante, sempre più rock. Poteva sembrare anche una restrizione da parte sua, quindi cercare di essere molto vicino alla ritmica del basso. Invece in quel momento lui ha avuto maggiore espressione. Riusciva veramente a far parlare la canzone. Con un semplice ritmo ti dava quell'inquietudine perfetta per Ride the Soul Storm. Oppure quando si doveva picchiare, lui lo faceva in un modo anche molto pesante. Mi viene in mente LA Woman. Oppure un pezzo capolavoro come Roadhouse Blues. Quel periodo negli anni 60 e c'erano band che suonavano e con batteristi come mi vengono in mente Kate Moon, come Ginger Baker. Batteristi che veramente picchiavano sulla batteria. Lo stile di John Desmond era molto più vicino al sound. Magari dei Pink Floyd con Nick Mason. O anche lo stesso Charlie Watts, un batterista dallo stampo jazz. Ti lascio anche un video qua. Sia di Charlie Watts che di Nick Mason. Ma allo stesso tempo la concretezza di Ringo Starr. Ti lascio comunque anche il video su Ringo Starr. Ti ricordo che qui sotto c'è il link alla playlist Spotify. Lo trovi qui sotto in descrizione dove puoi ascoltare tutte le canzoni che ho inserito all'interno di questo video. Più altre canzoni che io reputo fondamentali all'interno della discografia dei Doors ma proprio nel modo di suonare di John Desmond. Se sei capitato per puro caso ti chiedo di iscriverti al mio canale e di lasciarmi un like proprio per supportare queste tipologie di video e il mio canale. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto tra i commenti di John Desmond. Se lo paragonate anche ad altri batteristi che c'erano nel periodo consigliatemi anche dei batteristi da ascoltare e da fare anche dei video. Scrivetemi tutto quello che vi viene in mente qui sotto. Niente ragazzi, questo video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!